Onorevole Occhiuto, oggi a Scalea per la presentazione dello sportello antiviolenza sulle donne? Sì, per testimoniare con la presenza, la vicinanza a questa amministrazione, un'amministrazione intelligente retta da un sintaco che ha una giusta sensibilità verso un problema che riguarda la vita di moltissime donne che spesso non hanno il coraggio di denunciare fenomeni di violenza anche nel proprio ambito familiare. Un ringraziamento anche al consigliere di parità, Tiziana De Bonis, che è stata l'animatrice, la promotrice di questa iniziativa. Credo che azioni del genere definiscano il livello di civiltà di una comunità. Complimenti al comune di Scalea per averlo capito. Onorevole, sappiamo che in questo periodo lei ha numerosi impegni, molti dei quali istituzionali, ma nonostante tutto non è voluto mancare a questo appuntamento? Sì, ma io credo sia un dovere per chi svolge una funzione politica partecipare alle iniziative che vengono proposte dal territorio. Peraltro io faccio il parlamentare da tre anni, sono oggi vicepresidente della commissione del bilancio della Camera, ma ho fatto per due legislature il consigliere regionale. Anche oggi che sono espressione di una legge elettorale che purtroppo non consente il voto di preferenza, continuo a comportarmi come se fossi scelto attraverso le preferenze. Anzi, l'auspicio è che questa legge odiosa possa essere cambiata per restituire ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Da lì in poi forse tanti altri troveranno il tempo che oggi non trovano per stare vicino alle proprie comunità nei momenti importanti e comunque ogni volta che vengono richiesti della presenza. Grazie mille, grazie onorevole. Grazie a tutti. Grazie a tutti.